La maggioranza c'è, lo dice Silvio Berlusconi nel suo intervento alla Camera, in sede di quella che è stata definita con un linguaggio della Prima Repubblica, la verifica di maggioranza. Dunque, la maggioranza c'è, ma verrebbe da aggiungere non si vede, perché in questi mesi che cosa ha fatto questo governo, che cosa ha fatto questa maggioranza per risolvere i gravi problemi che il Paese ha di fronte? Nulla, tanto è vero che nel suo discorso di rilancio, Silvio Berlusconi torna a riproporre per l'ennesima volta i famosi 5 punti che già rilanciò all'avvio di questa nuova avventura governativa dopo la vittoria del 13 aprile del 2008 e addirittura nel settembre dello scorso anno, dopo il primo distacco di Fini a Mirabello, quando Berlusconi rilanciò i famosi 5 punti, gli stessi che torna a riproporre oggi, ancora una volta con dentro il piano casa, il piano sud, la riforma della giustizia, la riforma fiscale che quasi sicuramente non vedrà mai la luce, tre aliquote IRPEF, le più basse possibili, una cosa che neanche un governo all'inizio del suo percorso può immaginare di proporre all'elettorato, visto che serve una maggioranza forte, coesa per sostenerlo, non è il caso della maggioranza di centrodestra che stiamo vedendo all'opera in questi giorni, in questi momenti. Lo stesso Berlusconi in qualche misura lo riconosce quando dice nelle aule parlamentari, lo ha detto ieri al Senato, lo ha riproposto anche oggi alla Camera, che non c'è alternativa a questo governo, il che è come dire che questo governo sta in piedi soltanto perché non sa da che parte cadere. Lo stesso Bossi implicitamente glielo ricorda, oggi il leader del Carroccio in questo suo continuo gioco di stop and go, di ultimatum e penultimatum ha detto che Berlusconi ha fatto un bel discorso, ma adesso bisogna vedere i fatti e nessuno capisce davvero quali possano essere questi fatti. C'è solo una cosa che è sicura e il fatto che questo Paese dovrà fare una maxi manovra da 40 miliardi di lacrime e sangue, dobbiamo dirlo, perché non c'è margine né per ridurre le tasse né per immaginare chissà quali piani per il rilancio della crescita, purtroppo ci toccheranno sacrifici e questa è davvero l'unica certezza, perché come ci ha ricordato Moody's e le altre agenzie di rating siamo nel mirino e non possiamo permettersi un solo passo falso, pena un declassamento dei titoli nel nostro debito pubblico e quindi in quel caso un enorme aumento dei tassi di interesse, del costo del danaro e dunque una pesantissima ipoteca sulla già fragile ripresa italiana. Ha detto ancora il Presidente del Consiglio nel suo intervento in Parlamento non possiamo permetterci una crisi al buio, sarebbe una sciagura e fin qui ha detto la verità, perché non possiamo esporre il Paese a quelle che lui ha chiamato le locuste della speculazione, il che anche in parte è vero, ma io mi chiedo se possiamo lasciare il Paese in mano alle cavallette del centrodestra, che sono quelle che stiamo vedendo e che abbiamo visto all'opera, per esempio nell'inchiesta P4 che ruota intorno a Luigi Bisignani. Questa davvero è l'Italia peggiore.